Eccoci qua, buongiorno, buon giovedì, buongiorno Anna Maria Buongiorno Simone, allora iniziamo subito questa puntata piena di sorprese e iniziamo parlando di musica Eh sì, lo dicevamo, oggi siamo felici perché è tornato a trovarci un nostro amico, ci dà questo appuntamento e noi non vediamo l'ora perché amiamo parlare di musica e oggi parliamo di donne, quelle figure femminili che hanno davvero stravolto l'immaginario della cultura pop, donne che sono diventate simboli di rinnovamento e culturale e di costume dagli anni Ottanta ad oggi, quindi davvero tanto di cui parlare Eh sì, abbiamo lanciato la sfida Esatto, ragazzi buongiorno, vi sono mancato, dire la verità Sì, sì, è vero Eh sì, noi sappiamo, abbiamo questo appuntamento Poi io accetto le sfide, l'ultima sfida era quella di dover parlare di donne perché le abbiamo trascurate Ne abbiamo parlato di qualcuna però le avevamo trascurate diciamo nell'equilibrio generale e oggi parliamo di queste figure, come annunciavi tu, sono state in grado di stravolgere l'immaginario a 360 gradi, altrimenti non si spiegherebbe perché un uomo debba parlare di donne però sono talmente importanti come simboli, come protagoniste che hanno praticamente segnato e trasformato il mondo al di là dei generi e al di là di qualsiasi discorso Simboli a parte musicali, proprio culturali Assolutamente sì E di tradizione E parliamo di? E parliamo di, noi abbiamo un filosofo della cultura pop quindi non poteva non dedicare un libro a Lady Gaga Cominciamo da lei Assolutamente sì, è un libro di qualche anno fa Eccolo qua, vediamo la La seduzione del mostro era il titolo che in qualche maniera mette in evidenza quella che è la specificità di Lady Gaga all'interno della cultura pop contemporanea e se volete anche l'elemento innovativo perché effettivamente a mio avviso lo stravolgimento che ha portato Lady Gaga nell'ambito della cultura pop e della musica pop è quello appunto di aver superato la categoria classica dell'erotismo che aveva caratterizzato la musica pop agli anni Ottanta e poi e per una dimensione di attrazione molto diversa se volete anche perversa cioè quella di Lady Gaga spesso è la seduzione quasi del mostro perciò la seduzione dell'alieno, il perturbante cioè elementi che seducono ma che disturbano lo stesso tema perché disturbano, che fanno appello più caeros a Tanados per utilizzare le categorie italiane e questo effettivamente ha comportato un rinnovamento profondo proprio della figura del personaggio pop insomma Io mi ricordo quell'esibizione tanti anni fa Paparazzi, una delle sue prime canzoni ai Video Music Awards in cui alla fine era completamente coperta di sangue quindi come dire, dei simboli molto... una performance sì, molto forte significativa perché lì era il cosiddetto meat dress era l'abito fatto di carne sì, esatto di carne vera che era stato creato dai suoi stilisti perché poi dietro a una squadra c'era un entourage sì, sì, incredibile perciò anche molto performativa come personaggio questo pure proprio della cultura pop estremamente disturbante ripeto, l'esempio di fatto è azzeccato ma in generale tutti i video fin dall'inizio della sua carriera a partire proprio da Poker Face effettivamente è un'esibizione che è come se mettesse in evidenza una dimensione del femminile che spesso viene dimenticata o rimossa perché l'eterno femminino è anche una dimensione se vuoi diabolica, irrazionale oltre a essere simbolo di maternità ovviamente la madre c'è anche quest'altro elemento storicamente sappiamo benissimo l'inquisizione questo l'ha sempre saputo cioè il fatto che la donna sia l'elemento che simbolicamente fa appello al peccato esatto, al peccato, al diabolico e questo secondo me tutta la costruzione che c'è intorno all'etichia che anche altri personaggi diventa evidente a partire già dall'inizio della sua carriera poi viene ridefinita nel corso del tempo però c'è sicuramente sicuramente questo superamento nei confronti dell'approccio erotico più basitale anche molto diretto voglio dire non la manda a dire nei suoi testi Bad Romance è un testo molto esplicito I Want Your Stick insomma assolutamente sì quello è anche se comunque nel film anche l'ultimo che insieme a Bradley Cooper la vediamo sotto una veste completamente diversa bravissima questo è vero si mette completamente a nudo anche perché allora il mio libro è uscito prima di riuscire a di Estarisborn tra l'altro è una donna onda ieri sera mi dicono è interessante il fatto che nella fase di Estarisborn ha ragione Anna Maria perché è come se Lady Gaga dopo aver impiegato diciamo la dimensione dell'eccesso dell'esagerazione non sapesse quale via prendere come cade a molte star e perciò recupera l'elemento quello spontaneo perciò l'elemento quello dell'originarietà vera quello era il periodo in cui uscì un disco chiamato Joan che non è andato molto bene è andato benissimo però era il tentativo di recuperare la persona prima del personaggio e Estarisborn racconta la persona e come si crea il personaggio non è un caso che però poi nell'ultimissima fase della sua carriera con Chrometica è tornato un po' alla dimensione dell'alieno alla dimensione del mostro in maniera anche più spudorato beh ormai si era messa a nudo quindi poteva ritornare esatto è un percorso comunque molto coerente nelle varie tappe in corso di design beh studiato sicuramente molto bene a tavolino studiato benissimo perché poi una persona che conosce la musica sa comporre sa scrivere ma sa anche circondarsi di persone estremamente capaci videomaker fotografi fashion designer cioè tutta la squadra è pilotata a Lady Gaga non è lei pilotata da qualcun altro cioè lei ha il controllo di tutta la squadra e si circonda solo dei migliori è anche vero che secondo me appena poi abbiamo visto Poker Face che è stato il primo singolo in assoluto nessuno di noi ha pensato che fosse un artista una musicista così completa quindi secondo me due domande se le è fatte sembrava che fosse una delle tante un'ulteriore orbita che era destinata una meteora che avrebbe orbitato in quegli anni però invece poi il tempo ha dimostrato che effettivamente alcune personalità spiccano più rispetto questa dimostrazione ragazzi che molto spesso si dice che il pop è robetta e poi c'è musica in realtà pure lì le cose vanno fatte per bene altrimenti non resti nel devono essere studiate assolutamente sì perché altrimenti avrebbero tutti successo andiamo indietro di qualche anno è proprio l'inizio di Lady Gaga Poker Face com'è la Poker Face così pop pop Poker Face Poker Face Poker Face beh almeno parliamo di 15 anni fa 2008 perciò sì 15 anni fa prego dalla regia grazie a tutti Grazie a tutti.